Nelle ultime 24 ore in Svizzera sono 4.876 i nuovi casi positivi al coronavirus, a fronte di 30.392 tamponi effettuati, pari ad un tasso di positività del 16%. Dall'inizio della pandemia sono 309.469 le persone risultate positive al covid-19. Sul fronte dei decessi a causa dell'epidemia hanno perso la vita altre 100 persone, che portano così a 4.030 il bilancio delle vittime complessive. Per quanto riguarda gli ospedali, sono 257 ricoveri in più nella Confederazione nell'arco di un giorno, di questi 21 in Ticino, confermando il lento ma costante calo dei nuovi ingressi nelle strutture sanitarie del cantone di lingua italiana. Nell'ultima settimana, dove si trovano ricoverati ora 362 pazienti, ieri erano 375 di questi, 40 in terapia intensiva, 28 dei quali intubati, mentre i dimessi sono 29. Nel bilancio odierno, comunicato dall'ufficio del medico cantonale, vengono segnalati anche 253 nuovi casi positivi e 10 decessi, che portano a 513 le persone che hanno perso la vita a causa del virus dall'inizio dell'epidemia.